Giorno 476. Le notizie di oggi vengono da sud. Le forze ucraine continuano ad avanzare in tutte le direzioni principali. Ieri abbiamo parlato di come Levadne sarebbe potuta diventare molto presto la principale asse d'avanzata e oggi fonti russe hanno confermato che dopo aver sminato il campo e aver lanciato una piccola ricognizione in forze, gli ucraini hanno fatto seguire un attacco molto più consistente. Fonti russe riportano che gli ucraini stanno avanzando non solo a est ma anche a sud e che oggi l'unità d'assalto ucraina ha stabilito controllo su diverse posizioni russe nelle linee di alberi. Le forze ucraine stanno anche aumentando gli sforzi nella direzione di Rivnopil. Oggi fonti russe hanno riportato che gli ucraini hanno attaccato l'insediamento con 5 carri e 5 corazzati, con l'obiettivo di portare a livello la linea del fronte e stabilire le condizioni per un'avanzata su un fronte più largo. I combattenti ucraini continuano a rilasciare video delle nuove posizioni catturate, nello smistamento degli equipaggiamenti catturati, della pulizia delle trincee e della preparazione delle stesse per eventuali contrattacchi russi. Altra unità ucraine ha mostrato i trofei catturati dopo i pesanti scontri. Secondo i soldati la qualità degli equipaggiamenti è notevole e indica che stanno combattendo contro forze russe ben addestrate e non contro qualche mobilitato disalmato che non sa operare le armi più complesse, il che rende la vittoria ancora più significativa. Gli ucraini hanno anche confermato la cattura di diversi pezzi di equipaggiamento pesante come carri e corazzati. Per quanto riguarda il contrattacco russo su Makarivka è fallito a causa del debole controllo sulle alture tattiche intorno all'insediamento. Fonti russe riportano che hanno rilocato le loro forze dal fronte di Orychiv per aumentare la scala e intensità del loro contrattacco e ha aperto un'altra direzione, Orozaine. Alcune fonti dichiarano che il villaggio è una zona grigia e gli scontri continuano in quanto gli ucraini non intendono abbandonare la linea. Per minare le capacità offensive russe, le forze ucraine hanno schierato diversi IMARS nella regione e condotto operazioni di controbatteria. Geolocalizzazioni confermano che gli ucraini hanno distrutto 5 sistemi d'artiglieria, due vicini a una linea di alberi e tre vicino all'altra. Tutti i 6 moventi si trovavano vicino a Jalinske, che si trova a circa 17 chilometri dal fronte. In un tentativo disperato di cambiare la situazione, le forze russe hanno hackerato la radio nella regione e hanno cominciato a diffondere vari messaggi. Dichiaravano che le posizioni ucraine erano isolate da due lati, non c'era via di scampo e che il comando ucraino non aveva intenzione di salvarli, ed ecco perché tutte le altre forze avevano lasciato le loro posizioni. Han continuato dicendo che quella era la loro ultima occasione di arrendersi in quanto tutte le riserve ucraine erano state distrutte. Ironicamente, nel frattempo, gli ucraini stavano bersagliando le riserve russe con gli Imars, arrivando ad eliminare più di 200 soldati. Questo ha causato un enorme scandalo e un'investigazione non ufficiale nello spazio mediatico russo, e alcune fonti russe hanno rapidamente identificato e pubblicato le cause e i risultati di questo attacco. Circa tre mesi fa, uno dei nostri video parlava dello scontro corazzato più grande di questa guerra, avvenuto di fronte a Vuledar. In quell'occasione le perdite russe ammontarono a 150 tracarie corazzati e diverse brigate. Per questo disastro sono responsabili due persone, il loro tenente generale Rustam Muradov e il colonnello Sakrab Akmiedov. Nei loro rapporti però si parlava di incredibili successi, cosa che ha portato Putin a firmare un ordine esecutivo per promuoverli entrambi, con Muradov che divenne colonnello generale e Akmiedov divenne maggiore generale. Il successo di questo attacco Imars è dovuto al fatto che sono stati lasciati al comando. Fonti russe riportano che Akmiedov voleva fare un discorso motivazionale alle truppe e ha quindi ordinato che si assembrassero nel cortile e lo aspettassero. Sfortunatamente per i russi i droni da ricognizione ucraini hanno notato immediatamente la parata e comunicato alle coordinate Imars, il che ha portato all'eliminazione di almeno 200 soldati russi. Quindi Akmiedov ha effettivamente ucciso le proprie truppe con la sua incompetenza, ordinando che si riunissero in piena vista e in attesa. Anche le fonti più prominenti russe pretendono l'esecuzione del generale Akmiedov tramite plotone d'esecuzione e dichiarano che questo tipo di comandanti ha ucciso più soldati russi con i loro ordini di quanti non ne abbiano ucciso gli ucraini con le loro armi. Se siete contro l'invasione dell'Ucraina e volete supportare il nostro lavoro potete fare acquisti nel nostro negozio ufficiale. Qui potete trovare numerosi prodotti riportanti simboli ucraini per mostrare il vostro supporto al canale e per l'Ucraina. Potete trovare il link in descrizione. Grazie per l'ascolto, anche per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video.